Questo andrà bene. Questa è un'attività di ribelle, convergere alle coordinate. Questa è un'attività di ribelle. Inganciamo il bersaglio, a tutte le unità, convergere. Dove è il bersaglio? Contatto visivo. Il bersaglio è il mio. Apprezzato che il bersaglio è il mio. Mi hanno colpito il bersaglio. Abbiamo perso il contatto visivo. Rintracciate il ribelle. Bersaglio perso. Bersaglio fuori tiro. Inizio ricerca. Ribelle Succito, tornate ai vostri posti. Siete sicuri di volerlo fare? Simulazione di battaglia con mech avviata. Bersaglio si chiama. Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.